Gianluca Festa, lei ha lanciato un messaggio, una nuova sfida al sindaco di Avellino torni sfidando il Consiglio Comunale senza dar nulla in cambio a nessuno innanzitutto questo che significa dal momento che si sa è in atto una sorta di guerra tra bande nel PD? Le dimissioni di fatto hanno rappresentato la fine di un periodo e l'inizio di un altro periodo noi non possiamo certamente consegnare al commissario il comune di Avellino solo perché abbiamo perso le provinciali, non sarebbe giustificabile agli occhi della collettività una scelta del genere o diciamo non siamo in grado di governare e per questo andiamo a casa certo non possiamo dire che lo facciamo perché abbiamo perso le provinciali oppure come io chiedo al sindaco, venga in Consiglio Comunale, dica 4-5 cose che vuole fare ponga 5 obiettivi e chieda la fiducia a me e ai miei colleghi consiglieri su questi obiettivi senza dare nulla in cambio però, altrimenti ci troveremo dinanzi al volgare mercato delle vacche della proposta di incarichi in cambio di un voto di fiducia questo la città non lo merita, merita invece di essere governata bene Ecco la cosa, diciamoci la verità, che potrebbe stupire qualcuno anche nel PD è che si imputava proprio a Gianluca Festa la volontà di supportare il sindaco a patto che avesse fornito, dato un assessore, un incarico, un qualcosa in cambio dal suo punto di vista non c'è nulla di tutto questo Assolutamente, noi infatti lo abbiamo detto sui giornali lo diciamo anche attraverso i vostri teleschermi è evidente che il ladro ha sempre paura che a casa sua vadano a rubare questo è l'atterggiamento dei dirigenti che chiedono invece a Foti tirandolo per la giochetta a posto in giunta noi invece non ne chiediamo, gli chiediamo però di governare bene Avellino magari di fissare questi cinque punti, noi ci stiamo vediamo quali dei miei colleghi saranno disponibili a dargli questa fiducia sui punti amministrativi e chi invece vorrà in cambio una poltrona ebbene questi è meglio perderli E veniamo infine alle sue vicende personali nel PD espulsione sì, espulsione no, non si è ancora capito lei ha fatto una richiesta di risarcimento, a che punto siamo? Lei ha detto oggi sul giornale sono solo momentaneamente fuori dal PD mi attendo sviluppi, che vuol dire? Vuol dire che è evidente che la vicenda provinciale è stata una torsione politica nei confronti di chi, come me ha detto, via le cariatili da questo partito via i parrucconi, d'altronde anche Renzi ha detto non riconsegneremo il partito ai reduci anche io dico la stessa cosa in piccolo per quanto mi riguarda il ricorso e all'attenzione della Commissione regionale sono convinto che sarà accolto e poi vediamo le altre vicende non del risarcimento danni ma del risarcimento della dignità umana grazie grazie